Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo Il mare dei mostri Capitolo 8 Ci imbarchiamo sulla principessa Andromeda Stavo scurtando le onde quando Annabeth e Tyson mi trovarono. Che succede? chiese Annabeth. Ti ho sentito chiamare aiuto. Anch'io, disse Tyson. Strillavi dei cosi brutti attaccano. Non vi ho chiamati io ragazzi, risposi. Sto bene. Ma allora chi? Annabeth notò le tre sacche da viaggio gialle, poi il thermos e la bottiglietta di vitamine che avevo in mano. Cosa? Statemi a sentire, dissi. Non abbiamo molto tempo. Gli raccontai la mia conversazione con Hermes. Quando ebbi finito sentivo già dei versi stridoli in lontananza. Le arpie di pattuglia avevano captato il nostro odore. Persi, disse Annabeth. Dobbiamo compiere l'impresa. Ci faremo espellere, lo sai. Fidati di me. Gli espulsioni me ne intendo. E allora? Se falliamo non ci sarà nessun campo a cui tornare. Sì, ma tu hai promesso a Chirone. Ho promesso di tenerti lontano dal pericolo. E posso farlo solo venendo con te. Tyson può restare qui e dire che... Tyson vuole venire? Protestò lui. No, la voce di Annabeth era prossima al panico. Cioè, Persi, per favore. Lo sai che è impossibile. Mi chiese di nuovo perché ce l'avesse tanto con i ciclopi. Mi stava nascondendo qualcosa. Mi guardarono entrambi in attese di una risposta. Nel frattempo, la nave da crociera si allontanava sempre di più. Il fatto era che una parte di me non voleva portarsi dietro Tyson. Avevo passato gli ultimi tre giorni appiccicato a lui, preso in giro dagli altri ragazzi del campo e messo in imbarazzo un milione di volte senza potermi mai dimenticare che eravamo parenti. Avevo bisogno di spazio. E poi non sapevo quanto ci potesse essere di aiuto né come avrei fatto a proteggerlo. Certo, era forte. Ma Tyson era un bambino in termini ciclopici con un cervello di sette, otto anni. Me lo immaginavo già a dare di matto e a mettersi a piangere mentre cercavo di sfuggire a un mostro o roba del genere. Ci avrebbe fatti ammazzare. D'altro canto, il baccano delle erpie si stava facendo più vicino. Non possiamo lasciarlo, decisi. Tanalo punirebbe lui per la nostra fuga. Persi, insistette Annabeth cercando di mantenere la calma. Stiamo andando sull'isola di Polifemo. Polifemo è un clip, un clop. Questo ho i piedi per la frustrazione. Con tutto il cervello che aveva, anche Annabeth era dislessica. Saremmo potuti stare lì tutta la notte ad aspettare che pronunciasse la parola ciclope. Insomma, hai capito? Tyson può venire, insistetti. Se vuole. Tyson batte le mani. Vuole. Annabeth mi scocconocchia taccia. Aveva capito che non avrei cambiato idea o forse si era resa semplicemente conto che non c'era il tempo di discutere. E va bene, si arrese. Come arriviamo a quella nave? Hermes ha detto che ci avrebbe aiutato mio padre. E allora cosa stiamo aspettando, testa d'alghe? Per me era sempre stata una faticaccia invocare mio padre. Invocare, pregare, chiamatelo come volete. Ma entrai in acqua. Ehi, papà, cominciai. Come va? Persi? Bisbigliò Annabeth. Abbiamo fretta. Ci serve il tuo aiuto, dissi un po' più forte. Dobbiamo raggiungere quella nave prima di farci sbranare e via dicendo. Perciò all'inizio non successe nulla. Le onde si infrangevano sulla spiaggia come al solito. Le arpie ormai sembravano proprio dietro le dune di sabbia. Poi, a un centinaio di metri di distanza, tre linee bianche comparvero sulla superficie del mare. Avanzavano veloci verso la spiaggia come artigli che squarciavano l'oceano. Quando furono più vicine, la risacca si aprì e le teste di tre stalloni bianchi si impennarono fuori dall'acqua. Tyson trattenne il fiato. Oh, pesci e pani! Aveva ragione. Mentre le creature si accostavano alla sabbia, vidì che erano dei cavalli solo nella parte superiore. La metà inferiori erano di grandi pesci argentati, come le scaglie scintillanti e le pinne caudali di colori dell'arcobaleno. Ippocampi, esclamò Annabeth, sono bellissimi. Quello più vicino nitrì, apprezzando il complimento, esfirò Annabeth con il muso. Li ammireremo dopo, incalzai. Andiamo! Eccoli! Straddette una voce alle nostre spalle. Bambini cattivi fuori dalle case, ottimi spontini per arpie fortunate. Erano in cinque e svolazzavano in cima alle dune. basse, megere, grassocce, con la faccia tirata, munite di artiglie, di ali piumate e troppo piccole per la loro stazza. Mi ricordavano un incrocio fra un dodo e un inserviente della mensa in miniatura. Non erano molto veloci, grazie agli dèi, ma se ti beccavano, erano micidiali. Tyson, ordinai, prendi una sacca. Stava ancora fissando gli ipocampi con la bocca spalancata. Tyson! Muoviti! Con l'aiuto di Annabeth riuscì a farlo sbrigare. Raccogliemmo i bagagli e salimmo in groppa. Poseidone doveva sapere che Tyson era con noi, perché un ipocampo era molto più grande degli altri due, perfetto per il trasporto di un ciclope. Al galoppo, incitai. Il mio ipocampo si voltò e si tuffò fra le onde. Quelli di Annabeth e Tyson ci seguirono a poca distanza. Le arpie imprecarono e gridarono ai loro spuntini di tornare indietro, ma gli ipocampi sfrecciavano in acqua veloci come acqua scooter. Le arpie svanirono in lontananza e ben presto la spiaggia del campo mezzosangue non fu nient'altro che un'ombra scura. Mi chiesi se l'avrei mai rivista, ma in quel momento avevo altri problemi. La nave da crociera adesso incombeva davanti a noi. Era il nostro passaggio per la Florida e il mare dei mostri. Cavalcare un ipocampo. Era perfino più facile che cavalcare un pegaso. Sfrecciamo con il vento in faccia, filando talmente lisci sulle onde che non ebbi quasi bisogno di reggermi. Quando arrivamo più vicini alla nave, mi resi conto di quanto fosse enorme. Mi sembrava quasi di guardare uno dei palazzi di Manhattan. Lo scafo bianco era alto almeno dieci piani ed era sormontato da un'altra dozzina di punti, con i balconi e gli oblò illuminati. Il nome della nave era dipinto a lettere nere sotto la linea della prua. Illuminato da un faretto, ci misi qualche secondo a decifrarlo. Principessa Andromeda. Attaccata alla prua c'era un'enorme polena, una figura femminile alta a tre piani, vestita con un chitone greco e scolpita come se fosse incatenata la nave. Era giovane e bella, con i capelli neri lunghi e sciolti, ma sul suo viso era dipinta un'espressione di assoluto terrore. Come si fa a scegliere una principessa urlante per abbellire la prua di una nave da crociera? Ricordavo il mito di Andromeda e di come i genitori l'avessero incatenata a uno scoglio per sacrificarla a un mostro marino. Forse aveva preso troppe insufficienze o roba del genere. Comunque il mio omonimo Perseo l'aveva salvata appena in tempo e aveva trasformato il mostro in pietra usando la testa di Medusa. Quel Perseo li vinceva sempre. Ecco perché mamma mi aveva dato il suo nome, anche se lui era figlio di Zeus e non di Poseidone. Il Perseo originale era uno dei pochissimi eroi dei miti greci ad avere un lieto fine. Gli altri erano tutti morti dopo essere stati traditi, sbrannati, mutilati, avvelenati o maledetti dagli dèi. Mamma sapeva che avesse ereditato la sua fortuna, o almeno ci sperava. A giudicare da come mi era andata fino a quel momento non ero molto ottimista. Come saliamo a bordo? gridò Annabeth per farsi sentire al di sopra del rumore delle onde, ma gli ipocampi sembravano sapere di cosa avevano bisogno. Sfilarono lungo il fianco destro della nave, attraversando facilmente la sua grossa scia e si accostarono a una scaletta di servizio fissata allo scafo. Prima tu, disse ad Annabeth. Lei si gettò la sacca da viaggio sulle spalle e afferrò il primo piolo. Quando si fu sollevata sulla scaletta, il suo ipocampo nitrì un saluto e si tuffò sott'acqua. Annabeth cominciò ad arrampicarsi. Lascia che salisse qualche piolo, quindi la seguì. Alla fine, in acqua, era rimasto solo Tyson. Il suo ipocampo gli stava regalando una serie di salti mortali e caprioli all'indietro e Tyson si divertiva tanto che la sua risata recheggiava fin su nel fianco della nave. Tyson! Shhh! Lo rimproverai. Muoviti, amico! Non possiamo portare arcobaleno? chiese mentre il suo sorriso svaniva. Lo fissai. Arcobaleno! L'ipocampo nitrì come se il suo nuovo nome gli piacesse. Ehm, dobbiamo andare, dissi. Arcobaleno, beh, lui non può salire le scalette. Tyson tirò su col naso e seppellì la faccia nella criniera dell'ipocampo. Mi mancherai, arcobaleno. L'ipocampo rispose con un nitrito lamentoso e avrei giurato che stesse piangendo. Forse lo rivedremo, suggerì. Oh, sì, per favore! Esclamò Tyson rimettendosi subito dritto. Domani! Non gli promisi nulla, ma alla fine lo convinse a salutare il suo amico e ad afferrare la scaletta. Con un ultimo nitrito triste, l'ipocampo arcobaleno fece una capriola all'indietro e si tuffò in mare. La scaletta conduceva a un ponte di servizio pieno di scialuppe di salvataggio gialle. C'era anche una zona chiusa a chiave che Anna Bette riuscì a forzare con il suo coltello e una buona dose di imprecazioni in greco antico. Immaginavo di dover sgattaiolare in giro come un ladro, dato che eravamo clandestini, ma dopo aver controllato un po' di corridoi e aver sbirciato da un balcone un grande viale costeggiato di negozi chiusi, cominciai a capire che non c'era nessuno da cui nascondersi. Insomma, va bene che era il cuore della notte, ma avevamo attraversato metà della nave senza incontrare anima viva. Passammo davanti a una cinquantina di cabine e non udimo neanche un suono provenire dall'interno. È una nave fantasma, mormorai. No, obiettò Tyson giocarellando con la bretella della sua sacca da viaggio. Puzza. Anna Bette si accigliò. Io non sento nulla. I ciclopi sono come i satiri, spiegai. Riescono a sentire l'odore dei mostri. Non è vero, Tyson? Lui annui nervoso. Ora che eravamo lontani dal campo mezzosangue, la foschia aveva alterato di nuovo il suo viso. A meno che non mi concentrassi a lungo, sembrava avere due occhi anziché uno solo. Ok, disse Anna Bette. Allora, che odore senti di preciso? Di qualcosa di brutto, rispose Tyson. Fantastico, prontolò lei. Ora sì che è chiaro. Uscimo sul ponte dove c'era la piscina. C'erano file di sedie a sdraio vuote e un bar chiuso con una tenda a catenelle. L'acqua della vasca mandava un bagliore inquietante, fluttuando avanti e indietro con il movimento della nave. Sopra di noi, da prua a poppa, c'erano altri livelli. Un muro d'arrampicata, un minigolf, un ristorante, con un bancone girevole ma nessun segno di vita. Eppure percepivo qualcosa di familiare, qualcosa di pericoloso. Avevo la sensazione che se non fossi stato così stanco e svuotato di adrenalina dopo quella lunga notte avrei saputo riconoscerlo. Ci serve un nascondiglio, proposi. Un posto sicuro per dormire. Dormire, concordò Anna Bette finita. Esplorammo qualche altro corridoio finché non trovammo una suite vuota sul ponte 9. La porta era aperta e la cosa mi colprì. Era strano. C'era un cestino di dolcetti al cioccolato sul tavolo, una bottiglia di sidro frezzante in fresco sul comodino e una mentina sul cuscino con un biglietto scritto a mano che diceva «Buona crociera». Aprimmo le sacche da viaggio per la prima volta e scoprimmo che Hermes aveva davvero pensato a tutto. Vestiti di ricambio, beauty case, razioni da campo, una bustina di plastica chiusa piena di contanti e perfino un sacchetto di dracme d'oro. Era riuscito a infilarci l'incerata di Tyson con i suoi attrezzi e i suoi pezzi di metallo e il berretto dell'invisibilità di Anna Bette, cosa che li rincuorò parecchio. «Io sarò nella stanza accanto», disse Anna Bette. «Voi ragazzi non bevete né mangiate nulla». «Pensi che questo sia un posto stregato?» Anna Bette si accigliò. «Non lo so. C'è qualcosa che non torna, perciò state attenti». Chiudemmo la porta a chiave. Tyson crollo sul divano, armeggiò per qualche minuto con il suo progetto, che si rifiutava ancora di mostrarmi, ma ben presto cominciò a sbadigliare, riavvolse l'incerata e si addormentò. Io mi misi a letto e guardai fuori dall'oblò. Mi sembrò di sentire delle voci in corridoio, come dei bisbigli. Sapevo che era impossibile. Avevamo attraversato tutta la nave e non avevamo visto nessuno, ma le voci mi tennero sveglio. Mi ricordavo la mia gita negli inferi, il rumore degli spiriti dei morti quando ti passavano accanto. Alla fine, però, la stanchezza ebbe la meglio. Mi addormentai e feci il sogno peggiore di tutti. Ero in una caverna, sull'orlo di un'enorme voragine. Conoscevo quel posto fin troppo bene, l'ingresso del tartaro, e riconobbi la risata gelida che riecheggiava dalle tenebre sottostanti. «Guarda un po' chi si rivede, il piccolo eroe!» La voce era come la lama di un coltello su una pietra. «Avviato verso un'altra grande vittoria!» Volevo gridare a Crono di lasciarmi in pace. Volevo sguainare Vortice e ammazzarlo, ma non riuscivo a muovermi. E anche se ci fossi riuscito, come avrei potuto uccidere qualcuno che era già stato distrutto, fatto a pezzi e gettato nelle tenebre eterne? «Non lasciarti fermare da me!» Continua il titano. «Forse stavolta, quando fallirai, ti chiederai se vale la pena uccidere per gli dèi!» «Cosa ha fatto tuo padre ultimamente per dimostrarti la sua stima?» La sua risata riempì la caverna e a un tratto la scena cambiò. Era un'altra caverna, la prigione a letto di Gruver nel covo del ciclope. «Teso ruccio!» gridò il mostro da dietro il masso. Gruver guai e si mise a intrecciare i fili. La stanza tremò mentre il masso si spostava. Sulla soglia si stagliava un ciclope così grosso che al confronto Tyson era un nano. Aveva i denti storti, ingialliti, mani notose, grandi quanto me. Indossava una maglietta scolorita con suo scritto «Piera Mondiale della Pecora 2001». Sarà stato alto almeno 4 metri e mezzo, ma la cosa più spaventosa era il suo gigantesco occhio lattiginoso, scorticato e annebbiato dalla cataratta. Se non era del tutto cieco, ci andava parecchio, ma parecchio vicino. «Che cosa stai facendo?» domandò il mostro. «Niente!» rispose Gruver in falsetto. «Stavo solo intrecciando il mio strascico da sposa, come puoi vedere!» Il ciclope infilò una mano nella stanza e frugò attorno finché non trovò il telaio. Lo tostò con la grossa zampa. «Non si è allungato per niente!» «Ma sì, mio caro, vedi? Ho aggiunto almeno un paio di centimetri!» «Troppi ritardi!» mugì il mostro, poi annusò l'aria. «Ei un buon odore, come quello delle capre!» «Groover si sforzò di ridacchiare debolmente!» «Ti piace?» «È eau de chevrai!» «L'ho indosso soltanto per te!» «Mmm!» Il ciclope scoprì i denti appuntiti. «Buono da mangiare!» «Oh, perichino!» «Basta ritardi!» «Ma caro, non ho finito!» «Domoni!» «No, no, altri dieci giorni!» «Cinque!» «Oh, beh, sette allora!» «Se proprio insisti!» «Sette è meno di cinque, giusto?» «Certo!» «Oh, sì!» Il mostro brontolò ancora scontento della trattativa, ma lasciò Groover al suo telaio e fece di nuovo rotolare il masso al suo posto. Groover chiese agli occhi, chiuse gli occhi e fece un respiro tremante, cercando di calmarsi i nervi. «Sbrigati, persi!» «Mormorò!» «Ti prego!» «Ti prego!» «Ti prego!» Mi svegliai al fischio di una nave e al suono di una voce dell'altoparlante. Un tizio, con un accento australiano che sembrava fin troppo felice, «Buongiorno, passeggeri!» «Oggi staremo in mare per tutto il giorno!» «Il tempo è perfetto per il bambo party in piscina!» «E non dimenticate il bingo da un milione di dollari nella Kraken Lounge a Luna!» «E per i nostri ospiti speciali!» «Pratica di sbudellamento sulla promenade!» Mi tristai a sedere sul letto. «Che ha detto?» Tyson emise un gemito, ancora mezzo addormentato. Era disteso a faccia in giù sul divano, i piedi così lontani dal bordo che arrivavano nel bagno. «Il signore è felice!» «Ha detto?» «Pratica di sbudinamento?» «Per un attimo sperai che si trattasse davvero di budine e roba del genere, ma poi sentii bussare forte sulla porta interna della suite e Annabeth infilò la testa dentro, i capelli biondi tutti scompigliati. Pratica di sbudellamento!» «Una volta vestiti, ci avventurammo all'interno della nave e fummo sorpresi di vedere altra gente. Una dozzina di anziani stavano andando a fare colazione. Un papà stava portando i figli in piscina per una notata mattutina. membri dell'equipagine uniforme immacolata passeggiavano sul ponte, inclinando il cappello per salutare i passeggeri. Nessuno ci chiese chi fossimo, nessuno badò molto a noi, ma c'era qualcosa che non tornava. Quando la famiglia di nuotatori ci superò, il papà disse ai suoi ragazzi «Siamo in crociera, ci stiamo divertendo!» «Sì!» risposero i tre ragazzi all'unisolo, un'espressione vuota nel volto. «Cela spassiamo! Adesso andiamo a nuotare in piscina!» E si allontanarono. «Buongiorno!» ci salutò un membro dall'equipaggio con gli occhi vitri. «Ci divertiamo tutti un mondo a bordo della principessa Andromeda. Vi auguro una buona giornata!» E si allontanò anche lui. Poi passammo davanti a un bar e vedemmo il primo mostro. Era un segugio infernale, un mastino nero con le zampe anteriori sul bancone del buffet e il muso sepolto nelle uova strapazzate. Doveva essere quasi un cucciolo perché era piccolo in confronto alla maggior parte dei suoi simili, più o meno quanto un grizzly. Eppure mi sigelò il sangue lo stesso. Mi ero quasi fatto ammazzare da un cagnone del genere una volta. La cosa assurda era questa. Una coppia di mezza età era in fila al bancone del buffet proprio dietro il cane diabolico, aspettando con pazienza il proprio turno. Pareva che non avessero notato nulla di straordinario. Tyson non ha più fame, murmurò Tyson. Prima che io e Annabeth potessimo replicare, una voce serpentesca ci raggiunse nel corridoio. «E sono arrivati altri sei ieri!» Annabeth gesticolò come una pazza verso il primo nascondiglio disponibile, il bagno delle signore, e ci infilammo dentro tutti e tre. Ero così spaventato che non mi sentì nemmeno in imbarazzo. Qualcosa, o meglio, due qualcosa, strisciarono davanti alla porta del bagno, producendo un rumore come di carta vetrata sulla moquette. «Sì!» rispose una seconda voce di rettile. «Le attira lui! Presto saremo forti!» Le cose strisciarono verso il bar con un sibilo gelido, forse la risata di un serpente. Annabeth mi guardò. «Dobbiamo andarcene di qui! E sì che a me faccia piacere stare nel bagno delle femmine!» «Puzza!» concordò Tyson. «I cani mangiano tutte le uova!» Annabeth ha ragione. «Andiamo via, dal bagno e dalla nave!» «Rabrividi!» Se Annabeth e Tyson erano davvero d'accordo su qualcosa, forse era il caso di ascoltarli. Poi io dio un'altra voce all'esterno, una che mi raggelò più di quella di qualsiasi mostro. «Solo una questione di tempo! Non spingermi, Agrio!» Era Luke. Senza ombra di dubbio. Non avrei mai potuto dimenticare la sua voce. «Non ti sto spingendo!» ringhiò un altro tizio. La sua voce era più profonda e perfino più rabbiosa di quella di Luke. «Stò soltanto dicendo che se il trucco non funziona, funzionerà!» lo fulminò Luke. «Abboccheranno!» «Ora muoviamoci!» «Dobbiamo andare nella suite a miraglia e controllare la bara!» Le voci si allontanarono nel corridoio. Tyson piagnucolò. «Andiamo via adesso!» «Io e Annabeth!» «Io e Ann...» «Andiamo via adesso!» «Io e Annabeth!» «Ci scambiamo uno sguardo e ci troviamo d'accordo senza parlare!» «Non possiamo!» rispose a Tyson. «Dobbiamo scoprire i piani di Luke!» concordò Annabeth. «E se è possibile, gliele suoniamo, lo incateniamo e lo trasciniamo sull'Olimpo!» Capitolo 9 Ho la peggior riunione di famiglia della storia. Annabeth si offrì di andare da sola dal momento che aveva il berretto dell'invisibilità, ma la convinsi che era troppo pericoloso. O ci andavamo tutti insieme o non ci andava nessuno. «Nessuno!» votò Tyson. «Per favore!» Ma alla fine venne anche lui, mangiochiandosi le grosse unghie nervoso. Ci fermammo in cabina solo il tempo di prendere i nostri zaini. Qualunque cosa fosse successa, non contavamo di trascorrere un'altra notte a bordo della nave da crociera zombie, nonostante il bingo da un milione di dollari. Mi assicurai di avere vortice in tasca e le vitamine e il termos di Hermes in cima alla sacca. Non volevo che portassi tutto Tyson, ma lui insistette. Annabeth mi disse di non preoccuparmi. Tyson era in grado di caricarsi tre sacche da viaggio in spalla con la facilità con cui io ne portavo uno. Sgattaiolammo lungo i corridoi, seguendo i cartelli con su scritto «Voi siete qui!» Fino allo suite ammiraglia, Annabeth andava in avanscoperta, invisibile. Ogni volta che passava qualcuno, ci nascondevamo, ma incontrammo per lo più solo passaggeri zombie con gli occhi vitri. Quando arrivamo alla scala del ponte 13, dove doveva trovarsi la suite ammiraglia, Annabeth si milò «Nascondetevi!» e ci spinse dentro un armadio delle scope. Sentì passare un paio di tizi. «Hai visto il drago etiope nella stiva?» disse uno di loro. L'altro rise «Sì, è fantastico!» Annabeth era ancora invisibile, ma mi stritolò un braccio. Ebbi la sensazione che avrei dovuto riconoscere la voce del secondo tizio. «Hai sentito dire che tra poco ne avremo altri due?» proseguì la voce familiare. «Se continuano ad arrivare con questo ritmo, oh cavolo, non ci sarà gara!» Le voci si allontanarono in fondo al corridoio. «Quello era Chris Rodriguez!» Annabeth si tolse il berretto e tornò visibile. «Te lo ricordi? Casa 11!» Più o meno mi sembrava di ricordare Chris dall'estate prima. Era uno dei ragazzi indeterminati del campo, quelli che restavano bloccati nella casa di Hermes perché il divino padre o la divina madre non li aveva mai riconosciuti. Ora che ci pensavo, mi accorsi che quest'anno non l'avevo visto al campo. «Che ci fa un altro mezzosangue a bordo?» Annabeth scosse la testa, chiaramente turbata. Continuamo a scendere lungo il corridoio. Non avevo più bisogno di mappe per sapere che ci stavamo avvicinando a Luke. Percepivo qualcosa di freddo e sgradevole. La presenza del male. «Persi!» Annabeth si fermò all'improvviso. «Guarda!» Era davanti a una parete di vetro affacciata sulla voragine che si apriva al centro della nave scoprendono i vari livelli. In fondo c'era la Promenade, un centro commerciale pieno di negozi, ma non era stato questo da attirare l'attenzione di Annabeth. Un gruppo di mostri si era riunito davanti al negozio di dolciumi, una dozzina di lestrigoni come quelli che mi avevano attaccato a palla prigioniera, due segugi infernali e qualche altra creatura ancora più strana, femmine umanoidi con code di serpente e gemelli al posto delle gambe. «Dracene della scizia!» bisbigliò Annabeth. «Donne drago!» I mostri formavano un semicerchio attorno a un tipo giovane in un'armatura greca che stava bisbigliando di colpi a un manichino di paglia. Mi sale ingroppo in gola quando mi resi conto che il manichino indossava una maglietta arancione del campo a mezzosangue. Sotto i nostri occhi il tizio in armatura infilzò il manichino della pancia ed estrasse la spada con una mossa verso l'alto. La paglia volò dappertutto. I mostri esultarono e ulularono. Annabeth si allontanò dalla finestra. Era sbiancata. «Muoviamoci!» Lei ingiunsi, cercando di sembrare più coraggioso di quanto mi sentissi. «Prima troviamo Luke e meglio è!» In fondo al corridoio c'era una grande porta di quercia e due battenti. Sembravano proprio l'ingresso di un posto importante. Quando arrivammo a una decina di metri di distanza Tyson si fermò. «Ci sono delle voci dentro!» «Riesci a sentirle da così lontano?» chiesi. Tyson chiuse l'occhio come per concentrarsi al massimo. Poi la sua voce cambiò diventando una roca approssimazione di quella di Luke. «La profezia a nostro vantaggio. Quegli sciocchi non sapranno da che parte voltarsi.» Prima che potessi reagire la voce di Tyson cambiò di nuovo diventando più profonda e roca come quella dell'altro tizio che avevamo sentito parlare con Luke fuori dal bar. «Pensi davvero che il vecchio ronzino se ne sia andato per sempre?» Tyson rise imitando Luke. «Non possono fidarsi di lui. Con gli scheletri che ha nell'armadio l'avvelenamento dell'albero è stata l'ultima goccia.» Una betta a brividi. «Smettila, Tyson! Ma come ci riesci? Mi fai venire i brividi!» Tyson aprì l'occhio e sembrò confuso. «Tyson ascoltava e basta!» «Continua!» lo incoraggiai. «Che altro stanno dicendo?» Chiuse di nuovo l'occhio. Poi si bilò nella voce roca del tizio. «Silenzio!» e la voce di Luke che bisbigliava. «Sei sicuro?» «Sì!» rispose Tyson alla voce roca. «Proprio quei fuori!» Mi resi conto troppo tardi di quello che stava succedendo. Ebbi solo il tempo di dire «Via!» quando la porta della cabina di lusso si spalancò e Luke comparve fiancheggiato da due giganti irsuti che ci puntarono i giavellotti sul petto. «Bheh!» esclamò Luke con un sorriso maligno. «Guarda un po' chi si rivede! I miei due cugini preferiti!» «Entrate pure!» La cabina era bellissima e orribile. La parte bellissima in ogni finestra si incurvavano sulla parete posteriore affacciandosi sulla poppa della nave. Il mare verde e il cielo azzurro si stendevano a perdita d'occhio all'orizzonte. Un tappeto persiano copriva il pavimento. Due morbidissimi divani occupavano il centro della stanza con un letto a baldacchino da una parte e un tavolo da pranzo di mogano dall'altra. Il tavolo straripava di cibo. Scatole di pizza, bottiglie di coca e una pila di sandwich di carne su un vassoio d'argento. La parte orribile. Su un palchetto di velluto in fondo alla stanza c'era una bara d'oro lunga tre metri e un sarcofago scolpito con scene dell'antica Grecia che rappresentavano città in fiamme ed eroi che morivano di morti orrende. Nonostante il sole che filtrava dalle finestre la bara raggelava la stanza. Bene esclamò Luke allargando le braccia con orgoglio. Un po' meglio della casa undici eh? Era cambiato dall'estate prima. Al posto dei bermuda e della maglietta indossavo una camicia con i bottoni sul colletto pantaloni cachi e moccassini di pelle. I capelli color sabbia prima così ribelli adesso erano tagliati corti. Sembrava una specie di fotomodello malvagio che sfoggiava il completo di mod di quell'anno fra gli allievi cattivi di Harvard. Aveva ancora la cicatrice sotto l'occhio una linea regolare bianca che si era procurato battendosi con un drago e appoggiata su un divano c'era la sua spada magica vipera che scintillava in modo strano con la sua lama per metà d'acciaio e per metà di bronzo celeste adatta a uccidere sia i mostri sia i mortali. Accomodatevi ci invitò. Fece un gesto con la mano e tre delle sedie attorno al tavolo da pranzo si portarono al centro della stanza. I grossi amici di Luke ci puntavano ancora i giovellotti contro. sembravano gemelli ma non erano umani erano alti più o meno due metri tanto per cominciare e indossavano solo i jeans probabilmente perché il petto enorme era già ricoperto da un tappeto di folta pelliccia marrone. Avevano artiglie al posto delle unghie e piedi simili a zampe il naso somigliava più a muso e i denti erano tutti canini a guzzi. Che fine hanno fatto le mie buone maniere esclamò Meliflo Luke questi sono i miei assistenti agrio e orico forse ne avete sentito parlare non dissi nulla nonostante i giavellotti che mi puntavano contro non erano i due gemelli orsi a farmi paura avevo immaginato molte volte di incontrare Luke dopo che aveva cercato di uccidermi l'estate prima mi ero figurato forte e coraggioso pronto a sfidarlo a duello ma adesso che eravamo faccia a faccia riuscivo a impedire a stento che mi tremassero le mani conoscete la storia di agrio e orico che sei Luke la loro madre beh triste davvero Afrodite ordinò alla giovane donna di innamorarsi lei si rifiutò e corse a chiedere aiuto ad Artemide che le concesse di diventare una delle sue cacciatrici ma Afrodite pretese vendetta stregò la giovane donna facendola innamorare di un orso quando Artemide lo scoprì abbandonò la ragazza disgustata tipico degli dèi no? le digano tra loro i proveri esseri umani ci finiscono in mezzo i figli gemelli della ragazza Agrio e Orico non nutrono alcun amore per l'Olimpo tollerano abbastanza bene mezzo sangue anche se li preferiscono per pranzo ringhiò Agrio la sua voce era roca era quello che avevo sentito parlare con Luke prima ah 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 rise a suo fratello Orico leccandosi le labbra contornate di pelliccia continuò a ridere anche se avessi avuto un attacco d'asma finché Luke e Agrio non lo guardarono male pianta la idiota ringhiò Agrio punisciti Orico piagnucolò si trascinò in un angolo della stanza si accasciò su uno sgabello e picchiò la fronte contro il tavolo facendo tremare i vassoi d'argento Luke si comportò come se fosse una cosa normalissima si accomodò sul divano e appoggiò i piedi sul tavolino beh Percy ti abbiamo lasciato vivere un altro anno spero che tu l'abbia apprezzato come sta tua madre la scuola come va hai avvelenato l'albero d'Italia Luke sospirò dritto al punto eh ok certo che l'ho avvelenato e allora come hai potuto Annabeth era così furiosa che mi sembrò pronta a esplodere Dalia Dalia ti ha salvato la vita ci ha salvato la vita come hai potuto disonorarla io non l'ho disonorata sbottò Luke sono stati gli dèi a disonorarla Annabeth se Dalia fosse viva sarebbe dalla mia parte bugiardo se sapessi cosa ci aspetta capiresti quello che capisco è che vuoi distruggere il campo gridò lei sei un mostro Luke scosse la testa gli dèi ti hanno accecata riesci a immaginare un mondo senza di loro Annabeth ma che serve tutta quella storia antica che studi tanto 3000 anni di robaccia il mondo è marcio fino al midollo deve essere distrutto unisciti a me possiamo farlo ricominciare da capo potremmo usare la tua intelligenza Annabeth visto che tu non ne hai Luke strinse gli occhi ti conosco Annabeth ti meriti di meglio che accodarti a chissà che impresa disperata per salvare il campo la collina mezzosangue sarà invasa dai mostri nel giro di un mese gli eroi che sopravvivranno non avranno altra scelta che unirsi a noi o essere braccati fino all'estinzione vuoi davvero stare nella squadra dei perdenti una compagnia del genere Luke indicò Tyson ehi sbottai in giro con un ciclope la sbeffeggiò Luke e viene a dire a me che disonoro la memoria d'Italia meraviglio di te Annabeth proprio tu piantala gridò lei non sapevo di cosa Luke stesse parlando ma Annabeth si coprì la faccia con le mani come se stesse per piangere lasciala in pace dissi e lascia Tyson fuori da questa storia Luke rise oh sì ho saputo tuo padre l'ha riconosciuto devo devo aver fatto una faccia sorpresa perché Luke sorrise oh sì Percy so tutto di Tyson ed è il tuo piano di trovare il vello quali erano quelle coordinate 30 31 75 12 vedi ho ancora degli amici al campo che mi tengono aggiornato delle spie vorrei dire lui fece spallucce quanti insulti di tuo padre riesce a sopportare Percy pensi che ti sia grato credi che appose i doni importi più di te che di questo mostro Tyson strinse i pugni ed emise un ringhio cupo con la gola Luke si limitò a ridacchiare gli dèi ti stanno usando così tanto Percy hai la minima idea di quello che ti aspetta se arriverai al tuo sedicesimo compleanno Chirone ti ha mai detto della profezia sedicesimo compleanno cioè sapevo che Chirone aveva ricevuto una profezia dall'oracolo molti anni prima sapevo che in parte mi riguardava ma se fosse arrivato al mio sedicesimo compleanno suonava proprio male so quello che ho bisogno di sapere e riuscì a rispondere per esempio so chi sono i miei nemici allora sei uno sciocco Tyson indusse la sedia più vicina in pezzi Percy non è uno sciocco prima che riuscisse a fermarlo si scagliò contro Luke indirizzò i pugni verso la sua testa un doppio colpo che avrebbe aperto un buco nel titanio ma i gemelli orsi lo intercettarono gli afferrarono un braccio ciascuno e lo bloccarono all'istante quindi lo ricacciarono indietro con una spinta e Tyson inciampò piombando sul tappeto così pesantemente da far tremare il ponte peccato ciclope commentò Luke a quanto pare i miei due amici grizzly insieme sono più forti di te forse dovrei lasciarli Luke intervenni ascoltami è stato tuo padre a mandarci qui la sua faccia divenne rossa come un peperone non nominarlo nemmeno ci ha detto lui di salire su questa nave pensava che fosse solo per avere un passaggio ma ci ha mandati qui per trovare te e ha detto che non ha intenzione di abbandonarti anche se sei arrabbiato arrabbiato? rugì Luke abbandonarmi? ma se l'ha già fatto persi voglio che l'Olimpo sia distrutto ogni trono frantumato ti ha Hermes che è questo quello che succederà ogni volta che un mezzo sangue si unisce a noi i dei dell'Olimpo si indeboliscono e noi ci rafforziamo lui si rafforza Luke indaccò indicò il sarcofago d'oro la bara mi dava i brividi ma ero deciso a non darlo a vedere e allora domandai che c'è di tanto speciale poi ci arrivai capì cosa poteva esserci dentro il sarcofago la temperatura della stanza sembra abbassarsi di colpo cavolo non vorrai dirmi si sta riformando confermò Luke a poco a poco stiamo richiamando la sua forza vitale fuori dal baratro come ogni nuova recluta che si unisce alla nostra causa compare un altro pezzetto è disgustoso esclamò Annabeth Luke rispose con un verso di scherno tua madre è nata dal cranio spaccato di Zeus Annabeth io non parlerei se fossi in te presto ci saranno sufficienti pezzi del re dei titani e noi potremmo ricomporlo per intero gli monteremo un nuovo corpo costruiremo un'opera degna delle fuccine di Efesto sei pazzo concluse Annabeth unitevi a noi e sarete ricompensati abbiamo amici potenti sostenitori tanto ricchi da comprare questa nave e molto altro ancora Percy tua madre non dovrà più lavorare potrai regalarle una villa potrai avere potere fama tutto quello che vuoi Annabeth tu potrai realizzare il tuo sogno di diventare architetto potrai costruire un monumento che durerà millenni un tempio per i sovrani della nuova epoca ma al Tartaro rispose lei Luke sospirò peccato raccolse qualcosa che somigliava a un telecomando e pigiò un pulsante rosso nel giro di pochi secondi la porta della cabina si aprì ed entrarono due membri dell'equipaggio in uniforme armati di manganelli avevano gli stessi occhi vitri degli altri mortali che avevamo visto ma avevo la sensazione che questo non li avrebbe resi meno pericolosi in un combattimento ah bene la sicurezza disse Luke temo che abbiamo dei clandestini si signore risposero loro in tono sognante Luke si rivolse a Orico è ora di dar da mangiare al drago etiope porta questi sciocchi di sotto e mostragli come si fa Orico sorrise stupidamente lascia andare anche me brontolò Agrio mio fratello è un buono a nulla quel ciclope non è una minaccia lo interrompe Luke lancia un'occhiata alla barra d'oro come se qualcosa lo turbasse Agrio resta qui abbiamo delle questioni importanti da discutere ma Orico non deludermi rimani nella stiva per assicurarti che il drago mangi come si deve Orico ci incitò col giavellotto e ci condusse fuori dalla stanza seguito dalle due guardie di sicurezza umane mentre percorrevo il corridoio con il giavellotto di Orico che mi pugno pungolava la schiena riflettevo sulle parole di Luke quando aveva detto che i due fratelli orsi insieme erano più forti di Tyson ma forse separati lasciamo il corridoio al centro della nave e attraversiamo un ponte scoperto costeggiato di scialuppe di salvataggio ormai conoscevo la nave abbastanza bene per capire che quello sarebbe stato il nostro ultimo scorcio di sole una volta arrivati dall'altra parte avremmo preso l'ascensore che la stiva sarebbe avremmo preso l'ascensore per la stiva e sarebbe stata la fine guardai Tyson e dissi ora grazie agli dei lui capì si voltò e fece fare un volo di dieci metri a Orico scaraventandolo in piscina proprio in mezzo alla famiglia di turisti zombie ah strillarono i ragazzi in un'isola ora non ce la spassiamo più una delle guardie di sicurezza estrasse il manganello ma Annabeth lo mise al tappeto con un calcio ben piazzato l'altra guardia corse verso l'allarme più vicino fermalo gridò Annabeth ma era troppo tardi un istante prima che gli sfacciassi gli sfasciassi uno sdraio in testa riuscì a schiacciare l'allarme le luci rosse lampeggiarono scattarono le sirene alle scialuppe gridai corremmo la più vicina quando riuscimmo a togliere la copertura i mostri e le altre guardie della sicurezza stavano invadendo il ponte facendosi largo fra i turisti e i camerieri carichi di vassoie di bevande tropicali un tizio in armatura greca sguenò la spada e partì all'attacco ma scivolò in una pozza di piniacolada arcieri le strigoni si riunirono sul ponte superiore caricando frecce sui loro enormi archi come si fa a calare in mare questa cosa strillò Annabeth un segugio infernale mi balzò addosso ma Tyson lo colpì con un estintore salite a bordo tolsi il cappuccio a vortice bloccai la prima raffica di frecce in aria stavano per sopraffarci la sceluppa di salvataggio era sospesa su un fianco della nave sopra il mare Annabeth e Tyson riuscivano a manovrare la puleggia di rilascio saltai a bordo tenetevi forte gridai e tagliai i cavi una pioggia di frecce fischiò sopra le nostre teste mentre piumbavamo in mare in caduta libera grazie per aver ascoltato le audioletture di Manuel letture in diretta Twitch disponibili in replica su YouTube grazie per aver guardato il video la visione di YouTube grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video